Il motivo principale è che il farmaco equivalente riproduce un farmaco di cui il brevetto è scaduto, ma per dimostrarne la sicurezza, cioè l'assenza di effetti collaterali gravi e l'efficacia, cioè quello che noi chiediamo al farmaco, non deve sottoporre il suo farmaco a tutta una serie lunga di studi e di ricerche. Serie lunga e costosa, si stima in maniera approssimativa, ma insomma in media ci sta, che l'individuazione di un farmaco nella ricerca, il suo sviluppo fino al momento della prima commercializzazione, possa costare anche intorno all'ordine di 100 milioni di dollari, cioè cifre molto importanti. Tutta questa fase è risparmiata, il farmaco si riferisce a un modello che è già in commercio, che è stato testato, che è sicuro, che è efficace, lo riproduce nella stessa composizione, come diceva il professor Navarra, e lo commercializza. Tutta questa fase di costi ingenti ovviamente non li deve sopportare. naturalmente c'è anche il fatto che se non costasse abbastanza di meno non sarebbe concorrenziale con il farmaco di cui si pone come competitore, quindi la differenza si va a individuare soprattutto in un costo più accessibile e questo mette in moto una serie di meccanismi favorevoli, che sono quelli della competizione, della concorrenza. Non c'è più un monopolio di un farmaco coperto a brevetto, ce ne possono essere 20 con lo stesso principio attivo e ovviamente ognuno è interessato a prendere un pezzo di mercato e quindi tenderà ad abbassare il prezzo fino a che è possibile e questo crea una spirale favorevole dal punto di vista del costo del farmaco.